L'opinione. Riflettiamo con Giovanni Cominelli su tematiche politiche e sociali del nostro tempo. È o non è genocidio quello perpetrato da Putin contro il popolo ucraino? Se si deve giudicare alla luce dell'articolo 2 della Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Delitto di Genocidio, adottata dall'ONU il 9 dicembre del 1948, parrebbe di sì. Dice la Convenzione Per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale. Uccisione di membri del gruppo Lesioni gravi all'integrità fisica e mentale di membri del gruppo Il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale Misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo Trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro L'intenzione di Putin è trasparente ed è il corollario di un teorema che il popolo ucraino non esiste Se un popolo si proclama ucraino deve essere secondo logica annientato Sarà la Corte Penale Internazionale istituita a Roma nel corso della riunione della 52esima Assemblea dell'ONU tra il 15 giugno e il 17 luglio del 1998 è entrata in funzione nel 2002 a decidere se si tratta di genocidio Intanto si raccolgono prove I genocidi finora riconosciuti in base al diritto internazionale sono quello armeno tra il 1915 e il 1916 la Shoah durante la Seconda Guerra Mondiale quello cambogiano tra il 1975 e il 1979 quello della Bosnia-Herzegovina tra il 1992 e il 1995 quello del Ruanda tra il 7 aprile e la metà di luglio del 1994 A noi qui interessa tuttavia il lato etico e storico-politico del discorso sul genocidio pur tenendo fermo che la definizione giuridica internazionale è un dirimente punto di partenza ad impedire la confusione con crimini di guerra e con altri atti barbari e sanguinari che però non si possono definire genocidio Nella coscienza collettiva c'è un solo genocidio quello degli ebrei Degli altri citati si occupa un'opinione pubblica più specializzata e informata Dall'opinione pubblica il genocidio come possibilità storica degli esseri umani è generalmente considerato improbabile Ed è a partire da questa constatazione che muove l'ultimo libro controcorrente di Gabriele Nissim dal titolo Auschwitz non finisce mai La memoria della Shoah e i nuovi genocidi Secondo gli orientamenti di alcuni ambienti ebraici contro il quale l'autore polemizza ed è stato polemizzato la Shoah è il male assoluto, unico, definitivo, irripetibile Paradossalmente, secondo alcuni teologi integralisti ebrei è persino il segno di una speciale attenzione che il Dio di Abramo e di Giacobbe riserva al proprio popolo La Shoah come punizione per l'allontanamento del popolo dai suoi fondamenti Punizione dura ma anche segno di predilezione C'è un solo popolo eletto Contro questo integralismo in forza del quale la destra israeliana tira conseguenze immediate circa la gestione dei territori occupati e più in generale della questione palestinese l'autore muove controcorrente No, la Shoah non è il male assoluto, unico, definitivo e irripetibile Continua ad accadere nella storia degli uomini in forme antiche e nuove sempre atroci come è evidente nella guerra ucraina che scorre sui nostri teleschermi Il genocidio è una pratica della storia degli uomini Non è un evento metafisico e non è neppure naturale Non viene dalla natura come il covid, benché non manchino corresponsabilità dirette e indirette degli uomini Viene dalla storia degli uomini direttamente responsabili e colpevoli I genocidi del Novecento soprarricordati non sono eruzioni spontanee della storia sono costruzioni sociopolitiche guidate da un progetto che coinvolge nella sua realizzazione molte persone in qualità di progettisti, architetti, opinionisti, intellettuali, manovali, logisti Il genocidio è un'impresa collettiva, condivisa dalle classi dirigenti e da una gran parte almeno di popolo La decisione genocidaria ha alle spalle teorie, movimenti, consenso Perché scappi un progetto di annientamento dell'altro in quanto semplicemente altro occorre un lungo processo di accumulazione La entlösung de judefrage viene da lontano dai movimenti antisemiti europei e tedeschi in particolare viene da decenni di discorsi di odio Se è così, il genocidio si può prevenire Raphael Lemkin, il giurista che ha coniato il termine genocidio e che ha lavorato negli organismi internazionali per addivenire ad un riconoscimento della fattispecie criminale ha proposto quale primo passo dalla prevenzione la denuncia e la messa al bando delle parole di odio, di incitamento alla violenza e la lotta contro l'esclusione di gruppi etnici, culturali, religiosi e politici L'odio scorre all'inizio in piccoli rivoli sotterranei a determinate condizioni esplode dal profondo delle società rompe la crosta delle convenzioni sociali e la sovrastruttura delle leggi dei valori e allora i rivoli confluiscono in un grande fiume Chiunque frequente i mass media vecchi e nuovi può constatare come negli ultimi decenni rivoli crescenti di odio siano stati alimentati dai mezzi di informazione contro singole persone e contro gruppi Ai fini di genocidio? Certo che no Solo a fini di audience di introiti commerciali Lo scontro, l'insulto, l'irrisione dell'altro fanno la fortuna dei talk show e moltiplicano i like e la pubblicità A fini di audience di introiti commerciali A fini di consenso, di lotta politica, di distruzione dell'avversario Consapevoli del disastro civile ed etico che hanno prodotto e stanno producendo? Certo che no Allegramente incoscienti e irresponsabili? Certamente sì Perciò quello dell'autore non è un allarme retorico o un'esagerazione predicatoria Sì, Auschwitz può tornare I corpi ammucchiati dei civili in un supermercato Occultati nelle fosse comuni di alcune città ucraine Testimoniano di un male che riappare Ad un Mosè che potesse di nuovo scendere dal monte Sinai Il Dio biblico affiderebbe oggi un undicesimo comandamento Non commettere genocidio A noi spetta nell'attesa di lottare contro ogni espressione di odio Nelle nostre società libere c'è libertà di odio Entro i limiti presidiati dalla legge Occorre tuttavia fare un uso più sistematico Della libertà di combatterlo Avete ascoltato l'opinione Riflessioni su tematiche politiche e sociali del nostro tempo Con Giovanni Cominelli